Buongiorno da Piercaro Lava, siamo con lo scrittore Alessandrino Domenico Di Filippo. Ciao Domenico. Salve, buongiorno a tutti. Ciao Pier, come va? Beh, insomma, diciamo ci difendiamo, naturalmente, sono momenti sempre più difficili. Si vedrà. Allora, senti, cominciamo con la prima domanda. Come nasce o da cosa nasce la tua voglia di scrivere? Ma sai, nella vita ci sono dei momenti topici a cui non si può prescindere. Le cose succedono anche se uno non li programma e ci si mette in una dimensione in cui molte volte ci si trova. Ci si trova e bisogna percorrere i tempi. Quindi le cose vanno avanti anche senza volerlo. Poi capitano degli avvenimenti, qualcosa che fa riflettere, che fa, diciamo, addirittura che può mettere in crisi. Almeno a me è successo così, che ha messo in crisi e lascia degli interrogativi. Beh, in quel periodo, almeno riferito al primo romanzo, in quel periodo io conobbi una persona che fu molto importante, probabilmente. Conobbi una persona che riuscì a farmi riflettere, perché conoscendo il mio passato, conoscendo tutto ciò che io avevo, diciamo, attraversato i vari epochi della vita, mi disse una frase che mi fece molto riflettere. Una frase che diceva così, la tua vita è tempestata di perle di Allah che è un peccato non farle conoscere al mondo. Un qualcosa che mi rimase molto colpito. Immagino. E questo, diciamo, a quel punto io cominciai a buttare giù delle bozze, così, ma scrivevo ogni tanto e cercavo di fare, diciamo, mente locale su quello che mi era stato detto. Poi cosa successe? Successe qualcosa. Nella mia scuola lavorava con me uno scrittore alessantrino, si chiama Giorgio Baglietti, e che, insomma, oltre che essere uno scrittore, ha fatto delle trasmissioni, delle visive su Italia 1, quindi una persona, insomma, dove poteva dare un giudizio su qualcosa, su qualche cosa che avevo già scritto. E così è fatto. Allora venne Giorgio e mi disse, Mimmo, guarda, fammi leggere le prime cinque pagine. E dalle prime cinque pagine io, vediamo cosa c'è. E così fece, sottopose le prime cinque pagine della mia opera a Giorgio. E Giorgio, dopo cinque, sei minuti di aver finito le prime, prime pagine, mi guarda e mi fa, Mimmo, vai avanti, perché mi hai fatto entrare nel personaggio da te descritto. Quindi la cosa è valida. E fu così che nacque Capolinia e il suo prosieguo Incubi e Sorrisi. Certo. Parliamo adesso dell'ultimo romanzo, Incubi e Sorrisi, che è nato, da quanto so, da una tua esperienza politica molto intensa e che conosco abbastanza. Pensi che possa aver influito sulla sua realizzazione, questa sua esperienza? Guarda, Incubi e Sorrisi è lo sbocco naturale di Capolinia, che è il primo romanzo appunto. Ma si differenzia nel suo percorso come epoca di avvenimenti diversi. Capisci che attraversare gli anni 70, 80 e 90, ripercorre alcuni avvenimenti descritti in questo romanzo molto forti, molto sentiti. Ne dico qualcuno che passa dal sequestro Moro, dal periodo in quei 50 giorni del sequestro Moro, al terremoto dell'Irpinia, all'alluvione di Alessandria. Quindi sono dei momenti molto topici. Tre eventi importanti che hanno caratterizzato il secolo precedente. Il secolo precedente, infatti. Quindi capisci che questa è la condizione che io ho dovuto interrompere, Incubi e Sorrisi, nel momento in cui ho preso l'impegno come amministratore del Comune di Alessandria. E quindi siccome è un impegno che io ho voluto dedicare buona parte della mia vita, una buona parte della mia vita, cercando di andare a risolvere alcuni dei problemi che la città ha. Quindi se tutto ciò ha avuto un risvolto, penso di sì, perché l'esperienza mi ha fatto conoscere, anzi mi ha fatto vivere dall'interno come amministratore di Alessandria in questa città che ha tutte le sue contraddizioni e le sue bellezze. È inutile. Io ho amato fin dall'inizio questa città e conseguentemente ha influenzato la stesura di questo romanzo, mettendoci della passione, mettendoci quello che è tutto il mio background. Certo. Facciamo un passo indietro. Perché Capoline ha vinto un premio letterario molto importante, ricevendo numerosi apprezzamenti. Da cosa nasce secondo te tutto ciò? Guarda, nella vita quando pensi di averle vissute tutte, poi ti succedono delle cose che probabilmente non te le aspettavi. Quindi io avevo finito di scrivere Capolinea da pochi giorni e girando così nel web avevo notato che c'era dei concorsi letterari. Uno mi colpì particolarmente. Questo concorso si chiamava La vita fugge. Era dall'Accademia letteraria Francesco Petrarca di Biterbo. Certo, la partecipazione era aperta soltanto ai romanzi inediti. E quindi io oltretutto avevo, il mio romanzo era ancora su dei fogli a quattro, dei fogli a quattro quindi scritti e in fretta e furia li ho pinzati e li ho inviati. E me ne sono anche dimenticato oltretutto, perché dopo un mese, un mese e mezzo, mi arriva una mail dove mi dice di aver vinto nella sezione romanzi con la mia opera Capolinea. E sono arrivato, insomma, il titolo che era a livello nazionale, non era insomma locale. Era aperto a tutti i romanzi nazionali. La cosa, insomma, quello che mi ha colpito più di tutto comunque è stata la motivazione di questa vittoria. Perché è una frase che è molto molto bella, dove dice «Zelante narrazione di un capriccioso sogno tocca sulle corde del cuore librando amore». Ecco, io su questa frase penso di aver capito dove il lettore avrebbe trovato l'interesse, la dimensione e la passione, perché così poteva rivivere insieme a Daniele, che è il protagonista del libro, momenti di una vita che l'hanno costretto a crescere diventando un uomo dei nostri giorni. Quindi questo è quello che, diciamo, è il retroscena di questo libro che non pensavo mai più che arrivasse, insomma, a vincere un concorso letterario di una certa importanza. Bene, quando non ci si pensa mai più… No, è successo. Successe poi che dietro a questa vittoria alcune case editrici si offrirono di pubblicare la mia opera, ecco, è così che è diventato un libro. Certo. Sì, e quando non si attende più e arriva, è ancora più soddisfazione, no direi? Sì, certo. Adesso rifacciamo un passo avanti, veniamo proprio all'ultimo libro, Incubi e sorrisi. Come pensi di coinvolgere i cittadini di Alessandria alla lettura e alla conoscenza della tua ultima opera, del tuo ultimo manoscritto? Certo. Guardi, il mio romanzo esce in un momento molto delicato, molto buio per la nostra nazione. Anzi, io vorrei proprio soffermarmi a ricordare le vittime di questa terribile pandemia che ha segnato profondamente tutta la nazione. ma l'ha segnata specialmente nelle nostre parti dove noi come regione confiniamo con la Lombardia che è stato il fulcro, diciamo, il centro di tutta la sofferenza probabilmente che ancora ancora stiamo sta seguendo questo trend. È ovvio che tutto ciò va ad impattare sulla presentazione che, diciamo, un libro avrebbe bisogno di essere accompagnato per cercare di farlo conoscere ai propri concettatini, ai propri lettori, probabilmente a chi è un appassionato del genere, perché ci sono delle persone appassionate che, insomma, vogliono vivere con mano e sentire il fruscio del foglio di carta, perché il bello è questo. E allora, cosa c'è? In questo momento, invece, non si può. Ovviamente, io, cosa è successo? È successo che con l'aiuto di amici, probabilmente, in autunno, se le cose andranno, come stanno andando, perché si pensa che la pandemia possa scemare, sì, c'è il rischio di un ritorno, però io sono una persona... Ma non pensiamo, non auguriamoci. Ma io sono ottimista per natura, perché soltanto se si è ottimista, diciamo, si può andare avanti, altrimenti non si riesce a fare nulla. Quindi io penso che poi in autunno, siccome, come dicevo prima, il romanzo attraversa degli anni molto importanti per Alessandria e per delle associazioni come La Croce Verde di Alessandria, in cui il protagonista ha avuto un ruolo importante, ha avuto un ruolo significativo, quindi io penserei probabilmente in autunno, oltre di fare alcune presentazioni, anche per fare un dibattito, perché sarebbe molto bello cercare per il 26esimo anniversario dell'alluvione di Alessandria, fare un dibattito sull'alluvione e per l'occorrenza presentare il mio romanzo e cercare di dibatterlo in toro, anche eventualmente con dei protagonisti dell'epoca, perché è molto bello insomma ripercorrere poi negli anni quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto e quello che si può ancora fare. Sì, diciamo che possiamo dire che il tuo libro è composto da una serie di capitoli della vita, della tua vita, ma della vita di molti, e quindi ci saranno diverse occasioni per poterlo presentare. Certo, infatti si possono fare più presentazioni cercando di andare a dibattere un capitolo, infatti probabilmente farò un dibattito a Salerno in occasione del 23 di novembre, che c'è stato l'alluvione, il terremoto dell'Irpinia, di cui il mio paese di origine è stato coinvolto, e di cui il protagonista del libro fu uno dei primi soccorritori che si recò sul posto proprio da Alessandria, fino nella Vellinese per andare a raccogliere dei terremotati. Quindi ci sono queste fasi che oltretutto diventano anche molto interessanti per chi all'epoca ha vissuto questi avvenimenti che sono stati molto tragici. Certo, benissimo. Avremo poi anche occasione di inserire questo video in un articolo scritto, nel quale tu risponderai non solo a queste domande, ma anche a molte altre domande, ma quella risponderai già nel testo scritto, sogni nel cassetto, se stai già scrivendo il tuo terzo libro ce ne vuoi parlare. Per cui io sarei per rimanere su Incubi e Sorrisi, che è l'ultima tua creatura. Attualmente è una creatura che è da accompagnare, quindi cerchiamo di accompagnarla in un certo modo e farlo conoscere ai nostri concittadini per cercare se poi lo apprezzano per quello che è. Certo, da parte mia avrai il mio piccolo contributo. Ti ringrazio. Va bene, ciao Domenico. Grazie mille, salve, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao.